Proseguono i lavori per la riqualificazione di piazzale Giulio II nel nono municipio. Gli interventi che fanno parte dei cantieri del corridoio della mobilità EUR-Laurentina-Torpagnotta prevedono la realizzazione di una fermata dedicata ai filobus, nuovi marciapiedi e stalli dedicati ai taxi. Operazioni di manutenzione e messa in sicurezza in Villa Paganini nel secondo municipio, un intervento programmato di bonifica, pulizia e sfalcio per la riapertura del parco, al cui interno si trova anche una scuola materna. Al via la realizzazione di un polo benessere e salute per tutti, un luogo di aggregazione con attività sportive, ricreative e di sostegno per la salute e il benessere degli anziani. Il nuovo polo sorgerà all'interno della struttura residenziale per anziani Roma 3, in via Gioacchino Ventura 60. Grazie a tutti.